ciao a tutti oggi prepareremo la bibita tipo lemon soda il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di raffreddamento gli ingredienti sono succo di limone zucchero semolato scorza di limone e acqua cassata fredda diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato la scorza del limone chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità dieci veniamo sul fondo del boccale aggiungere il succo di limone facciamo cuocere per cinque minuti a 100 gradi velocità 2 lasciamo raffreddare il composto all'interno del boccale composto di limone si è raffreddato aggiungiamo l'acqua cassata che deve essere molto fredda chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo mescolare per 30 secondi a velocità 1 la bibita tipo lemon soda è pronta trasferiamola in dei bicchieri e serviamola subito bibita tipo lemon soda grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao